Allora siamo nel parco del Vingolato a Lauria e sabato 16 giugno del 2017 incontriamo qui a Lauria un camminatore speciale un po' particolare che è in compagnia di un asino parliamo di Nicola Winkler che ci sembra arrivi da Torino, è vero Nicola? Sì, arrivo da Torino Raccontaci un po', tu arrivi da Torino, da dove sei partito e come mai sei qui a Lauria? Allora io arrivo da Torino, sono partito da Palermo con un progetto di viaggio a piedi da Palermo a Torino appunto attraverso tutto lo stivale per riscoprire in maniera diciamo ecosostenibile quindi viaggiando a piedi senza dipendere da nessun tipo di mezzo a motore e anche per il gusto di muoversi con lentezza e l'asino è l'animale perfetto per muoversi con lentezza perché se lui non vuole camminare, se reputa che non è il caso di camminare di andare avanti non lo muovi e quindi devi adattarti ai ritmi della natura e attraverso quest'Italia un po' rurale adesso sto facendo casino con i cavi è un'Italia un po' nascosta che c'è tantissimo e che sto scoprendo tantissimo di ecovillaggi Allora Nicola come è venuto in mente? Un ragazzo di vent'anni, parlaci un po' di te tu sei mi pare diplomato e sei iscritto all'università però hai deciso, come ti viene in mente appunto di fare queste esperienze? Allora io ho avuto delle esperienze di viaggio a piedi molto brevi mai niente di così impegnativo e in Liguria ho fatto prima di tutta la Liguria a piedi e ho appurato che viaggiare in questo modo mi dava la possibilità di conoscere veramente un posto per me viaggiare non è il fatto di, come è inteso nella maggior parte dei casi il fatto di prendere un aereo e andare da un posto a un altro posto per me il viaggio è tutto quello che c'è in mezzo e quindi volevo vedere l'Italia ma non spostandomi con la macchina andando nei vari posti che volevo vedere ma vedendo tutto quanto quello che c'era in mezzo, paese per paese L'asino poi ho scoperto in questi mesi che è un catalizzatore quindi che mi ha permesso di conoscere anche le persone e quindi di conoscere veramente i paesi e la cultura locale che in maniera, quando si viaggia normalmente come un turista che vai, vedi i posti però non cogli mai veramente la cultura del posto, del paese che ogni paese ha il suo dialetto, la sua cultura e quindi un siciliano di Gangi è diverso da un siciliano di Geraci che sono comunque attaccati Quando tempo fa hai iniziato? Quando pensi che duri questo viaggio? Allora, ho iniziato più o meno due mesi e mezzo fa ho fatto in un mese la Sicilia che avrei dovuto fare in due settimane ma sono incappato in diverse disavventure e calcolavo di farlo in sette mesi adesso con quello che è successo purtroppo ho dovuto saltare la Calabria l'ho fatto in treno sempre a causa delle disavventure adesso sono ripartito ieri, ieri mattina e conto di continuare per il Cilento e di metterci un altro sei mesi più o meno essendo positivi Senza voler entrare nei dettagli di queste disavventure però tu sei partito, sembra che ci hai raccontato, con un altro asino poi l'hai lasciato in Sicilia purtroppo non è andata bene con quest'asino e quindi poi hai avuto problemi anche all'attraversare forse lo stesso lo stretto e quindi ora sei partito dalla Calabria con questo nuovo asino come si chiama l'asino? L'asino si chiama Fela che è il nome di un musicista africano Fela Kuti non so se conoscete che mi piace molto questa tua scelta è anche dovuta a questa vena un po' particolare anche artistica perché tu ti occupi, mi pare, anche hai passioni anche di musicali Sì, ho passioni musicali in realtà ho due passioni la musica e il cinema tutte e due a livello amatoriale l'idea del progetto iniziale era quella di fare il viaggio con l'asino e di girare un film su questo viaggio e sull'Italia che citavo prima quella nascosta per farla conoscere purtroppo nelle disavventure ho perso anche tutta l'attrezzatura cioè mi è stata rubata tutta l'attrezzatura e quindi adesso mi sto riorganizzando per fare un film collettivo io personalmente non potrò più farlo però fare un collage di riprese fatte dalle persone che si uniranno al viaggio e magari appoggiandomi anche alle film commission regionali fare proprio una produzione a livello nazionale diciamo e cercare di portare a termine anche questa parte del progetto cioè quella di fare un film allora sei arrivato mi pare oggi in Basilicata giusto? sì allora dacci un po' questa tua prima impressione in questa regione da Lucania allora in Basilicata c'ero già stato quest'estate e mi è piaciuta molto anche le persone che ho conosciuto ma come più o meno tutte le persone che ho conosciuto fino ad adesso camminando a piedi le persone che ti si avvicinano sono sempre quelle più interessate quindi diciamo quelle che meritano come appunto ci siamo conosciuti noi due e niente la Basilicata ho visto veramente poco ho fatto qualche chilometro però è bello è molto ospitale appunto sono arrivato qua a Lauria e tempo mezz'ora ho trovato qualcuno che mi ha ospitato mi ha dato da mangiare e niente quindi molto ospitali penso che siamo un po' tutti ospitali qui in Basilicata questa impressione su Lauria e visto che l'hai conosciuta anche con una guida locale cosa hai trovato? ti ha colpito qualcosa in particolare di questo centro lucano? Lauria mi ha colpito come in realtà mi ha colpito più o meno in tutti i paesi del sud Italia che ho incrociato fino ad adesso la spiritualità e questo spirito anche di festa cioè il fatto che ogni occasione è buona per fare festa e festeggiare in questo caso i santi quindi questo legame molto forte con la religione che però in maniera positiva mi ha colpito tu conoscevi per esempio il nostro santo locale anche Lauria ha un suo santo il Beato Valentino non lo conoscevi proprio? no assolutamente poi vabbè io sono poco informato su questi argomenti però il fatto di girare il paese con una persona del posto tra l'altro che ne sa quindi non uno qualunque ma uno che mi ha saputo raccontare le varie storie i vari personaggi è stato illuminante appunto sono riuscito ad entrare in contatto con questi personaggi qua tipo Lentini ti abbiamo anche raccontato che sia su Lauria ma già l'hai trovato in Sicilia c'è anche un'azienda che appunto si occupa di asini cioè abbiamo un'azienda anche a Lauria che insomma lavora con gli asini e produce latte d'asina che tu non sapevi eh no appunto in Sicilia non ho mai avuto difficoltà a incontrare asini poi arrivato in Calabria a cercare il nuovo asino ho avuto molte difficoltà quindi non me l'aspettavo di questa azienda che produce latte ma mi sembra di capire che sta prendendo parecchio piede questa nuova attività come pensi di essere supportato? raccontaci un po' cosa farai da oggi in poi per esempio dove stai andando? ora riparti già nel pomeriggio stai ripartendo da Lauria quindi dove andrai stasera domani? allora vabbè tempo permettendo mi sa che aspetterò che spiova dovrei arrivare questa sera a Nemoli e poi il mio obiettivo è arrivare a Sapri entro il 20 dove ho appuntamento con due amici che mi seguiranno per un pezzo perché una parte importante del progetto è appunto quella che io sono partito da solo però la mia intenzione non è quella di fare un viaggio da solo anche se hai i suoi pro e i suoi contro comunque è bello questi giorni camminare da solo mi è piaciuto però è anche condividere il viaggio con altre persone e sperare di incontrarle man mano persone che magari si uniscono per qualche giorno e camminano con me e mi sono perso hai delle tappe particolari in Italia che proprio non dovrai mancare cioè che già hai segnato sul tuo calendario ho delle tappe che mi sono state fornite grazie a Italia che cambia questa associazione che mi appoggia che mi ha sponsorizzato non con soldi ma con pubblicità e quindi ci sono dei posti di questa rete italiana di ecovillaggi di realtà rurali nuove giovani che si sono proposti di ospitarmi volentieri cioè si sono esaltati per questo progetto quindi ci sono delle tappe che avrei piacere di incontrare però non ho niente veramente di fisso cioè il mio viaggio è molto aperto ai cambiamenti senti chi ti vuole seguire chi ti vorrà seguire sui social per esempio come deve fare raccontaci un po' anche a chi ci vede dove ti potrà seguire questa tua esperienza allora su Facebook vabbè sul mio profilo Nicola Winkler si posto ogni tanto degli aggiornamenti però principalmente sul blog che tengo su Italia che cambia che è questo sito questa rete creato da Daniel Tarozzi e lì tengo un blog dove pubblico tutti gli aggiornamenti necessari allora descriviamo un po' quello che ti porti questo viaggio porti poi davvero poca roba dietro che metterai sull'asinello ecco raccontaci un po' cosa ti porti dietro allora ormai sono ridotto all'osso al minimo indispensabile come è giusto che sia ero partito con un altro intento e grazie all'asino poi mi sono allargato e mi sono portato attrezzatura per girare il film poi questo evento fortuito mi ha portato a cioè mi ha portato mi hanno rubato tutte quindi sono rimasto con proprio il minimo indispensabile che sono vestiti una tenda un sacco a pelo mi sono cucito due bisacce con delle borse riciclate giusto per caricare le cose più pesanti sull'asino ho dei pannelli solari per ricaricarmi le cose e il telefonino lo ricarichi con il tuo pannellino solare sì sono indipendente dal livello energetico questo sì facci vedere sto pannellino solare certo che il tempo in questo momento non permette questo è il pannellino solare è costato pure poco quanto costa quanto costa una trentina di euro allora Nicola tu ci hai raccontato che studi al Dams a Torino e che hai sospeso gli studi per fare questa esperienza come riesci a conciliare in un tempo in cui si agisce così veloci fermarsi tanto tempo per un'esperienza del genere allora io principalmente perché me lo posso permettere diciamo mi sono preso il tempo ho scelto di prendermi questo tempo in realtà subito dopo il liceo ho preso un anno sabbatico perché non sapevo che scegliere anche lì c'è questa pressione che non hai ancora dato l'esame di quinta e già devi scegliere cosa fare nell'università e cosa farai all'università vorrà dire cosa farai nella vita possibilmente anche se poi è tutto relativo quindi mi sono preso questo anno alla fine di quest'anno non è che mi è arrivata l'ispirazione come speravo io e quindi però proprio in in concomitanza del momento diciamo della scelta dei test universitari mi è venuta questa idea qua e quindi ho deciso con il consenso dei miei diciamo di perdere un altro anno perdere si fa per modo di dire tra virgolette esatto diciamo l'accordo con i miei è stato inizio a fare il Dams l'università di cinema e teatro che era una delle possibilità e poi quando devi partire parti la sospendi io l'ho fatta diciamo molto per per loro che me l'hanno chiesta poi comunque a me piace studiare mi ha mi ha dato soddisfazione studiare per quei due o tre mesi però comunque ho deciso di sospendere tutto dopo un esame ho preso e sono andato e sono partito e devo dire che dall'esperienza diretta di questo viaggio ho imparato molto di più che non da anni di scuola e quindi forse in questo momento avevo bisogno di imparare più sul campo cioè questa volontà che c'è molto tra i giovani tra le nuove generazioni di tornare alla terra e di tornare al lavoro manuale non stare sempre sul vago nella teoria e quindi mi sono mi sono preso il tempo e molti lo stanno facendo ormai le persone che finiscono l'università in tempo sono sono pochissime sono tutti fuori corso tutti fanno tutti i miei coetanei cercano di fare queste esperienze più di vita vera che insegnano di più raccontaci un po' dei tuoi coetanei e della vita che invece fai quando sei a Torino e questi giovani in città appunto come vivono in questi momenti anche un po' difficile beh sì anche tra i miei amici ho riscontrato molto questa paura del futuro del non sapere che cosa fare della propria vita quindi di vivere questa indecisione c'è chi se la vive diciamo più serenamente tra virgolette come me e che quindi cerca un'alternativa e c'è chi invece va nel panico e quindi piuttosto imbocca la strada sbagliata quella che non è la sua strada ma cerca lo sbocco lavorativo più facile diciamo tanti pensano per esempio di trovare le proprie strade andando all'estero perché all'estero si trova lavoro si trovano le soddisfazioni questa scelta tua invece può essere anche un modo per riscoprire proprio le proprie radici e la propria Italia e la propria terra sì sicuramente io prima di partire volevo comunque fare dei viaggi mi è sempre piaciuto viaggiare pensavo all'Africa al Sud America ma poi ho detto vabbè io sono italiano vivo in Italia che è un paese bellissimo e che in realtà non conosco sì sono stato in Puglia in vacanza sono stato in Sicilia però non la conosco per come la intendo per come intendo io conoscere un posto cioè passarci e viverlo starci un po' e vivere con le persone del posto e quindi sì anche una riscoperta del mio paese un rivalutare anche un aspetto che non è il solito o aspetto turistico o quello che ne so universitario degli studi comunque quello di facciata ma tutte le realtà rurali i paesini piccoli quelli che vivono ancora come una volta quelli che sono retrogradi e magari sono rimasti indietro perché non non sono stati aiutati ad andare avanti come vedi tu queste potenzialità diciamo queste prospettive per il nostro paese appunto in che senso le potenzialità cioè il vostro futuro è il futuro dei giovani l'Italia è dove lo può trovare diciamo il giovane con questo futuro in Italia senza andare all'estero ma allora vabbè l'Italia come paese ha un sacco di potenzialità da tutti i punti di vista e prima di tutto quello turistico che non è assolutamente sfruttato poi io sinceramente appunto tanta terra anche la stessa terra diciamo che è produttiva spesso sì esatto basti pensare alla Sicilia ma in realtà tutto il sud Italia più che il nord dove pianti una qualsiasi pianta etica in Sicilia fanno le piante tropicali i manghi gli avocadi ormai viene tutto quindi le potenzialità dell'Italia sono tantissime anche le rinnovabili l'Italia potrebbe essere indipendente a livello energetico sfruttando il sole il vento e invece sono come sempre in mano a pochi che se le gestiscono in modi per creare sempre profitto maggiore non per il bene per fare le cose per bene torniamo concludendo al Dams se tu tornerai comunque al Dams completerai questo ciclo di studi dopo? non ne ho idea l'idea cioè diciamo il piano è quello io per adesso ho surgelato il mio voto unico dell'esame e se torno e penso di continuare sì però non so quello che mi porterà questo viaggio e quello che mi verrà da fare magari non mi fermo a Torino e continuo a camminare io non lo so comunque almeno un libro lo scriverai su questo viaggio a un film riuscirai a farlo un documentario il film spero di sì il libro io scrivo non sono particolarmente bravo però io sto scrivendo pubblico ogni tanto degli articoli sul mio blog e può darsi che magari esca anche qualcosa di quel tipo c'è di cose da dire di avventure già vissute fino ad adesso in due mesi figurati nei sei mesi che mi aspettano infatti abbiamo appena preso l'acqua di un temporale no? sì questa è la prima volta era nuova